I militari della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone hanno dato esecuzione all'ordinanza della custodia in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dottor Giuseppe Capoccia ed emessa dal GIP dello stesso tribunale nei confronti di due persone, GG 36enne ed MS 31enne conviventi residenti nell'area dell'Isolitano, accusati di tentato omicidio aggravato e detenzione illegale di armi. I fatti di cui si sono resi i protagonisti risalgono allo scorso 17 gennaio, quando presso un'azienda agricola situata nelle campagne tra Cutro e Isola di Caporizzuto un uomo aveva richiesto immediati soccorsi per essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco da un soggetto a lui sconosciuto. I primi accertamenti dei carabinieri però avevano fatto pensare a un quadro totalmente differente da quello riferito dalla stessa vittima la cui versione era apparsa poco credibile. Gli approfondimenti dei militari si sono quindi concentrati nell'ambito familiare. Il lavoro svolto dai militari della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Crotone ha consentito di rompere il muro della reticenza, individuando e acquisendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti del fratello della vittima. È stato possibile ricostruire la verosimile dinamica dei fatti. I due fratelli avrebbero iniziato a discutere per motivi economici, fino a quando l'odierno arrestato avrebbe esplosso sei colpi di pistola a distanza ravvicinata, il primo ad altezza d'uomo, e i successivi più in basso, uno dei quali ha colpito la vittima alla gamba mentre cercava rifugio in una stalla. Più gravi conseguenze sono state evitate solo grazie al presunto icceppamento dell'arma, non rinvenuta grazie al supporto e all'assistenza determinante della convivente dell'arrestato, che proprio per questo motivo è stata sottoposta allo stesso provvedimento. Nelle fasi esecutive dell'odierno provvedimento è stata rinvenuta in zona greste anche l'arma utilizzata. Gli arrestati sono stati quindi tradotti presso le case circondariali di Crotone e Castrovillari.